Lo sportello del cittadino ha deciso di riservare due puntate settimanali, due spazi settimanali all'Adoc Puglia per affrontare insieme tante tematiche e illustrarci gli interventi che l'Adoc Puglia pone in essere a tutela del cittadino consumatore. Quest'oggi siamo con l'Avvocato Giulia Procino e con lei parleremo di questa problematica, le conciliazioni con poste italiane. Di cosa si tratta e come vi state muovendo, cosa suggerite ai fruitori del servizio? Sin dal 2006 l'Adoc insieme ad altre associazioni dei consumatori hanno firmato un protocollo d'intesa con le poste italiane finalizzato a trovare delle soluzioni bonarie e quindi ad evitare l'ungaggine di costi di un eventuale processo. Pertanto poste italiane viene incontro insieme all'associazione dei consumatori, appunto ai consumatori, ai fruitori dei servizi di poste italiane specificamente facendo riferimento a quelli che sono i servizi postali, quindi alle raccomandate, i pacchi. Nell'ipotesi in cui vi sia responsabilità da parte di poste italiane in ritardi di invio, di raccomandate o smarrimenti di pacchi, cose di questo tipo si può iniziare questo tipo di conciliazione. In verità dal 2015 c'è anche un'altra grande novità perché nell'oggetto della conciliazione rientra anche attualmente pure la materia delle poste pay, quindi tutto ciò che riguarda le carte poste pay possono essere ormai affrontate di fronte a un'occasione della conciliazione. Questo tipo di procedura può cominciare con l'invio di una raccomandata sia da parte del consumatore sia per il tramite di un'associazione dei consumatori, qualora sia ritenuto opportuno. Nell'ipotesi in cui non ci sia risposta o ci sia una risposta non ritenuta soddisfacente da parte del consumatore entro 45 giorni dall'invio, si può adire questa conciliazione e lo si fa attraverso la compilazione di un formulario che va depositato appunto presso poste italiane.